Marketing in pillole per imprenditori e creator. Ne parliamo con Noemi Taccarelli. Cos'è una newsletter? Comunicare attraverso le mail può essere un modo estremamente vantaggioso per costruire una relazione con i tuoi clienti o più in generale con i tuoi contatti. Ma come si scrive una newsletter davvero efficace? Il primo consiglio è fare estremamente attenzione all'oggetto della mail. È da lì che le persone decidono se leggere o meno il tuo contenuto. Perciò deve essere una frase breve, chiara, ma d'impatto. Il tuo scopo è creare curiosità. Altrettanto importante è il contenuto dell'email. Quello che offri deve avere un valore. Non limitarti a provare a vendere i tuoi prodotti, ma cerca di costruire una relazione con chi ti legge, attraverso storie, consigli e aneddoti. Concludi tutte le tue mail con una call to action, ovvero invita chi ti legge a compiere un'azione. Può essere visitare il tuo sito web, iscriverti a un gruppo Facebook, guardare un video e così via. L'importante è attivare l'utente. È uno dei passi più importanti per arrivare poi alla vendita. Grazie mille a Noemi Taccarelli. Per chi ci sta ascoltando, dove possiamo trovarti per approfondire le tematiche e contattarti? Potete trovarci sul nostro sito, dove c'è anche una sezione dedicata al blog, blankgrowth.agency. Ci trovate anche sui social come Blank Growth Agency e inoltre ci trovate all'interno di un gruppo Facebook, dove rispondiamo a domande e curiosità, che si chiama Growth Marketing Forum Italiano.